Diciamo che il cimitero non è mai stato una priorità delle amministrazioni comunali. Io penso che sia una priorità di questa, il fatto stesso che io sia l'assessore che ricopre tutto che si deve riguardare, dalla pulizia alla scelbatura, alla costruzione dei loculi, a tutto quello che riguarda il cimitero, penso che si possa dire che per questa amministrazione è una priorità. Così oggi Fabio Leonte, assessore del comune di Sciacca, si impegna pubblicamente in favore di un recupero della struttura cimiteriale alle prese con un'emergenza infinita che perdura da anni, a partire da un numero di salme da seppellire che sfiora le 100 unità. Leonte però chiarisce. Ci sono per l'esattezza alla data odierna 98 salme, due saranno tumulate lunedì, quindi 96. Di queste 96, 50 devono essere tumulati in loculi comunali, le altre 46 hanno già rinunziato per iscritto alla possibilità di essere tumulati in loculi comunali perché hanno degli accordi scritti ma anche con versamenti effettuati probabilmente con le associazioni. Una è la Xacca di Sant'Annera e l'altra è il circolo sportivo Saccense. Queste due stanno ultimando i manufatti e quindi non appena verranno ultimati queste salme saranno tumulate nei loculi di loro competenza. La mancanza dei loculi cimiteriali richiede interventi urgenti. Fabio Leonte spiega quali sono. È una situazione che purtroppo si protrae da qualche anno. Cosa sta facendo il comune? Intanto noi abbiamo in itinere un progetto di costruzione di 54 loculi, campo 37 per intenderci quello vicino all'obitorio. Attendiamo il parere della forestale e dopodiché possiamo andare avanti. Io penso che per due o tre mesi avremo questi 54 loculi che ci consentiranno di azzerare la situazione. Dopodiché è previsto nel piano triennale la costruzione di almeno 1900 loculi, è previsto un importo di 3 milioni e mezzo, mediante il contratto di vendita futura. Quindi il comune non incassa e non esce alcuna somma. Quindi finanzia l'intervento con i soldi che già acquisisce. Quindi a costo zero, il che ci consentirà di non avere questo genere di problemi per lo meno per i prossimi 4-5 anni. Ma immaginare ampiamente infiniti del cimitero di Sciacca è anche un limite. In tale direzione bisogna fare conti con concessioni di 99 anni che hanno già visto diversi comuni italiani ridurre questo periodo. Ma secondo lei è ragionevole che le concessioni durino ancora 99 anni e siamo costretti a costruire sempre nuovi loculi? Ci potremmo lavorare su questo, ne parliamo da tanto per ridurre questa durata. Che è un ampliamento, non è che si può fare sempre ampliamento? E' una durata eccessiva, si potrebbe ridurre, ma una sessantina d'anni in maniera tale che c'è una sorta di ricambio. Però attualmente cerchiamo di arginare questo problema che certamente non è assolutamente dignitoso. La responsabilità è dovuta al fatto che nel corso degli anni non si è provveduto a costruire dei loculi. Infine Leonte si impegna a migliorare le condizioni infrastrutturali del cimitero di Sciacca. Ovviamente all'interno del cimitero ci sono altri problemi per i quali dopo l'approvazione del bilancio cercheremo di dare adeguate risposte. Quindi anche il manufatto che c'è all'ingresso si potrebbe provare di intervenire? Abbiamo delle somme che ci consentiranno di intervenire in più parti, pensiamo anche ad ipotesi di videosorveglianza, pensiamo di poter asfaltare qualche zona che invece che per ora si presenta assolutamente indecorosa. Quindi cercheremo, anche dal punto di vista della pulizia abbiamo delle idee che se dovessero andare a buon fine ci consentiranno di tirare un sospiro di sollievo anche rispetto alla pulizia del cimitero stesso. Grazie a tutti.